Un saluto dalla redazione del Tg della mobilità. Domani mattina a partire dalle 10 all'auditorium della conciliazione è in programma un evento organizzato in occasione dei 75 anni della Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria. Per quel che riguarda il trasporto pubblico saranno deviate su percorsi alternativi le linee 23, 40, 62 e 280. Sino alle 14.30 circa saranno anche disattivate due fermate, una in via della Traspontina, l'altra in Piazza Pia. Restando nella zona del Vaticano si avvicina l'appuntamento con la settimana Santa Domenica a San Pietro, la solenne celebrazione delle palme da parte di Papa Francesco. Il piano viabilità e trasporti è su romamobilità.it a San Pietro, la solenne celebrazione delle palme da parte di Papa Francesco.